Il 7 di che mese però, Atea? È marzo, 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 marzo. Ti hanno portato il corpo d'armata lì a Bolzano? A Bolzano. Prima mi hanno portato il comando del campo di concentramento e là naturalmente io non capivo una parola di... E dopo mi hanno portato al corpo d'armata. Il corpo d'armata giù, sotto quel sotterraneo, giù là. Il giorno dopo, al mattino alle 9, sento diversi passi sul corridoio e mi portano nella sala di tortura, che è più in fondo. E là hanno incominciato a torturarmi. Hanno incominciato a torturarmi e allora mi hanno messo allo spiedo. Allo spiedo mi hanno legato le mani, così con il fil di ferro, le mani diritte col fil di ferro. Poi me le hanno infilate sulle ginocchia. Infilate sulle ginocchia. E attraverso, fra le mani, fra le mani e le ginocchia mi hanno passato un ferro. Poi mi hanno alzata, ho messo su una scala a pioli, una scala doppia, così, e io rimanevo là con le gambe e la testa in giù. E là hanno incominciato a interrogarmi. Mi hanno interrogato, scosse elettriche, erano in due, con una corda di bue, con l'impugnatura grossa, poi fina, 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 che mi bastonavano. Si mettevano in posa con le gambe larghe e giù botte, giù botte. Allora mi facevano venire in qua con le scosse elettriche, oppure mi facevano perdere i sensi con le scosse elettriche, mi facevano venire in qua con le bastonate, finché volevano sapere se mio fratello era un comandante, perché loro erano fissati che Aldo era un comandante, perché con tutta questa roba che aveva addosso e tutto vestito, era tutto vestito da americano, perché era tutto vestito da americano, poi credevano che fosse un comandante, invece mio fratello non era un comandante, era il factotum del maggior Cepel, sì, perché lui, essendo perito edile, perito meccanico era, conosceva un po' l'inglese, conosceva un po' il tedesco, perché allora studiavano il tedesco, non si studiava, allora fra tedesco, inglese e così, e italiano si capivano insomma, ecco, e così. E lì al corpo d'armata si è rimasto fino a quando? Allora là mi hanno torturato finché basta, poi mi hanno tirato giù, quando mi hanno messo per terra, perché dopo quando non ne potevo proprio più, e che continuavano a insistere, suo fratello è un comandante, e ad un certo punto ho detto sì. Allora mi hanno tirato giù e mi hanno messo per terra. Ah, suo fratello allora era un comandante? No! E' fatto io. Non mi hanno rimessa su, mi hanno rimessa su, mi hanno riappesa, e botte ancora, finché, finché, durante l'interrogatorio, volevano sapere i nomi dei partigiani, allora ho dato i quattro nomi dei partigiani che erano in campo, perciò sono in campo e quelli non possono farci più niente. e volevano sapere altre cose. Allora, nel nascondiglio, allora io ci ho detto per filo e per segno dove è il nascondiglio, perché ero sicura che nel nascondiglio non c'era più niente. Per filo e per segno, loro credevano che io avessi incominciato a parlare e erano tranquilli perché io ormai avevo incominciato a parlare queste due verità, sì, insomma, per loro sono state sufficienti e dopo l'ho continuato sempre con Aldo, Aldo il comandante, Aldo era un comandante.